Pace fatta tra Vauro Sinesi, il famoso vignettista italiano, e il buon il Brasile, alias Massimiliano Minnocci. Siamo qui da persone civili, avrebbe scritto il buon Massimiliano. Mi è appunto una persona civile, c'è stata stretta di mano finale. Ci siamo chiesti scusa da persone civili senza fare passi indietro. Chiedere scusa è un sinonimo di essere uomini, ho sentito anche la signora Fagnani. Vi ho chiesto scusa, ho questa faccia, parlo romano. Basta che mi alzi a parlare e sembra che insulti qualcuno. Sarebbero state queste le parole che avrebbe utilizzato Vauro, scusatemi, il Brasile, seduto in un locale in compagnia di Paolo. Lo stesso Vauro avrebbe detto poi. Sono molto contento di essere qui a mangiare insieme a Massimiliano, non a brasiliano o al fascistone. E' stato brutto trovarsi muso a muso, non è mai bella la violenza. Vi ho visto l'umanità di Massimiliano e sono felice che uno scontro sia diventato un incontro. Insomma, poi c'è stata, vi ricordo, una stretta di mano immortalata in un video. Beh, dunque ripeto, pace fatta tra Paolo Sinesi e il Brasile, Arias Massimiliano Vinnocci. Personaggio di spicco che, ormai possiamo dirlo a tutto dono, va parte del mondo della tv italiana. Grazie, iscrivetevi se vi va, commentate. Un cordiale saluto dal vostro Leandro, Arias dal vostro narratore italiano. Grazie a tutti.